Vaure in onda, i ricordi della valigia, storie dei bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz. Un cordale saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi leggeremo assieme la storia Un ritorno inatteso di Pasqua, Burigo. Vi narro la storia di un giovane di Soverzene. Giosuè si chiamava ed era il mio papà, nato nel 1879. Prima della guerra, 15-18, partì per l'America del Sud in cerca di fortuna. Sapeva fare tanti lavoretti. Là trovò due coniugi anziani che volevano farlo figlio di anima perché gli volevano bene. Purtroppo si ammalò ai soldi che aveva le spese per curarsi, così solo grazie all'aiuto di quelle buone persone prese la nave per il ritorno. Il viaggio lo pagò lavorando sul bastimento, in cima all'albero maestro. Era la vedetta che avvisava di altre navi o di imprevisti gridando del pericolo ai marinai sul ponte di sotto. Tutti lo credevano morto e fecero celebrare 18 mesi di suffragio. Lui intanto arrivò in Italia, dove sbarcò, non lo so, so solo che passò prima per Belluno e si fermò da Beppi delle Strasse. Quest'ultimo, come lo vide, gli disse «Se tu vivo, sei tu un fantasma de morto». Ma poi gli spiegò la sua situazione al paese. Dopodiché, Giosuè prese la strada di casa salendo la montagna da Soccer. Amont salutò degli uomini che tagliavano legna, ma non lo riconobbero. Il paese incontrò Piero Bortoluzzi e lo salutò con un «Buongiorno». Guardandolo, Piero disse a voce alta «Se non si sapesse che Giosuè è morto, direi che quest'uomo è lui». Quando arrivò a casa, Mia Gea mescolava la polenta e, brontolando per le parole di quell'uomo che diceva di aver colà qualche diritto, prese il mescol per cacciarlo. Finalmente, dicendo il suo nome, lei lo rigonobbe. Lasciò allora bruciare la polenta e corse a chiamare gente dicendo che «era arrivato Giosuè». Poi arrivò la guerra del 15-18 e il mio papà si trovò con il genio militare a Maserno, in Emilia. Anche qui si trovò bene e, dandosi da fare con i suoi lavori, conobbe una buona famiglia. Tanto lo stimavano che tenne dei crisi i miei loro figli. Rimasero in contatto anche finito il conflitto per diversi anni. A Maserno lo andarono a trovare anche i cugini Golle, Begnamino, Giovanni Ernesto e Celeste, pure loro del genio. Esiste, da qualche parte, una foto che hanno scattato insieme. Dopo la guerra, mio papà trovò un pezzo di terra buona e pensò di trasferirsi a Maserno con i suoi sei figli per migliorare la situazione. Ai miei fratelli, però, non piaceva la polenta di castagne come si usava a preparare in quel luogo e così rimanemmo a Soverzene, tutti uniti e contenti con la dolce mamma che, come tutte le mamme, compensava con l'affetto la mancanza di tante cose necessarie a vivere. Avete ascoltato I ricordi della valigia, storie di bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz.